Amicone Manolino, l'ultima gente ci va insieme. L'ultima gente, a me che nasce, a me su. Mi piace la carne, a me che c'è un vino. Mi piace la carne, a me che c'è un vino. Mi piace la carne. Il cicala, lui è il cicala. Allora, il cicala. Ha fatto un'operazione per diventare un uomo. E adesso, dopo la cura di ormoni, sembra proprio un uomo. L'uomo è perché le parzosi a Buddha si sta allenando. Gli ha messa la pancia. Giustamente, perché non ho niente.